Buongiorno a tutti, oggi preparo cipolle in agrodolce Mi occorre un chilo di cipolle già pulite, 500 ml di acqua, 500 ml di aceto di mele, 300 ml di vino bianco, 30 g di sale, 60 g di zucchero, alloro e pepe nero quanto basta Inizio la preparazione, in una pentola metto l'acqua, metto l'aceto di mele Metto il vino, metto lo zucchero, il sale e l'alloro con i grani di pepe Ora porto sul fuoco e faccio bollire Quando bolle il tutto, metto le cipolle Da quando riprende il bollore, le faccio bollire per 3 minuti Dopo 3 minuti, tolgo le cipolle E faccio raffreddare sia le cipolle che il liquido Raffreddato tutto, inizio a metterle nel barattolo Inizio a mettere le cipolle A questo punto metto il liquido Ora chiudo con il tappo A questo punto metto in una pentola Riempio d'acqua e faccio bollire per 10 minuti Una volta raffreddate sono pronte da gustare oppure conservarle per un anno Grazie della visione, alla prossima Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace